Ciao a tutti ragazzi e bentornati in Eurokai, siamo con Giovanna oggi su Bannerlord per nuove battaglie Ci stanno assediando un castello e ragazzi purtroppo non vedrete l'ultima mezz'ora di gioco Perché l'ho dovuta giocare offline per problemi di audio Allora, ci eravamo lasciati che eravamo in guerra con i Vlandiani Soltanto che è successo che ci hanno dichiarato guerra anche l'impero Quindi ho fatto pace con loro e dichiarato guerra a loro Ci siamo presi da Nustica, ma niente di ricche ragazzi non vi siete persi niente Erano pochi uomini, ci siamo presi dalla città E adesso siamo ritornati qui a giocare online e vedrete tutto Questi intanto me li piglio, sì erano pochi uomini tipo questi Intanto con... qua ci stanno assediando un altro castello Ma c'è il nostro esercito che sta assediando un castello Il che mi fa molto piacere Noi potremmo provare a prenderci... sono rimasti con tre città A prenderci Vostrum o Pikaon direttamente Io direi... andiamo a Pikaon mentre siamo qua Dicevo siamo tornati ad avere quasi un milioncino con tutto che siamo di bilancio a meno 7000 Questo perché facciamo tanti bottini in guerra La guerra fa fruttare tanti soldarelli Quindi ci andiamo qua Che succede? Decisione... ah per chi si prende da Nustica? Vabbè la diamo a... Ermenegilda Vogliamo fare pace con questi? Eh vabbè sì dai facciamo pace con Mojang Tanto è un poveraccio Questa sarà sicuramente nostra adesso Eh hanno 500 uomini Però ci sono... sono dei poveracci Però c'è lei che avrà 88 soldati soldati Quindi vabbè ci prendiamo lo stesso Tanto noi ormai con Giovanna Giovanna ragazzi è diventata talmente forte Che con tutti gli uomini che secca Anche se sono più di noi non c'è problema Vediamo il castello di Melion Lo diamo a... lo diamo a Jennifer E proseguiamo nel nostro assedio Mettiamoci pronti ragazzi andiamo Non so se deliziarvi con la mia parlantina O lasciarvi una dolce melodia durante l'assedio Scrivetemelo nei commenti Cosa preferite quando Giovanna assedia Io adesso vi lascio una melodia Io adesso vi lascio un po' No! 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 Oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un po' più forte di Vlad. Vlad l'avevamo portato a conquistare il mondo a livello 27 mentre Giovanna che ha ancora solo una piccola porzione, una discreta porzione del mondo è a livello 35. Nemmeno lo vede a Vlad. Con questa città in men che non si dica. Andiamo qua, ce ne prendiamo un'altra. Va a 350, questa la possiamo anche simulare. Ok, inviamo le truppe. Ah e ragazzi, volevo informarvi che in questo esatto momento il mio canale ha fatto un anno, ha fatto il compleanno, è un anno che ha aperto il canale YouTube. E siamo a 499 iscritti. Quasi a 500 euro, regà. Ebbene, abbiamo conquistato anche l'Igaon e c'era un esercito qua di... esercito. Alcuni uomini qui che ci aspettavano ma inermi non potevamo fare nulla. L'Igaon ce la prendiamo sempre noi. Esatto. E adesso ragazzi non ci rimane che conquistare Vostrum, l'ultima città dell'impero. In pratica ci siamo spazzolati una fazione ragazzi, men che non si dica. Stavano già con poche città, noi li abbiamo proprio estinti. Come Mochang, i Kursahiti. Allora vediamo quanto è... 800, wow. 800 uomini, potremmo provare a farla noi da soli. Sperando che sia una battaglia epica, perché di solito anche se sono stati in superiorità numerica ce la siamo vista facile. Allora, le truppe le abbiamo, regà... 97, io mi piazzerei sti 14. Fatto così ne siamo 400 e mandare l'attacco. 400 contro l'800. Ok raga andiamo, è un'impresa epica questa. Perché siamo 250 contro 750 in campo. Sono il doppio dei nostri, forse di più. Quindi mettiamoci qua riparati e aspettiamo... Che arrivino le macchine da sedio. Nel frattempo loro come vedo non hanno... Non hanno né balisse né catapulte. O forse sì. Ok usciamo l'arco. Sì sì. Hanno una catapulta sicuro. Tu sei bravo. Ma che bravo. Sei bravo. No 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 no. Sei molto, molto bravo. Ok saliamo ragazzi, saliamo. Facciamo la spada. La gente suscrist. Sono in 680, noi in 220. 220! Andiamo a fare la differenza. Vincere la battaglia e prenderci la città. Ed estinguere... Questi piazzi di mierda. Vi ricordo che ci hanno dichiarato loro guerra. Non noi. Noi la miglior difesa è l'attacco. Quindi attacchiamo. Dai. Dai Giovan. Vorrei passare in mezzo a loro. Ma sono veramente tanti. Vai, 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 vai. Dai Giovan. Eh sì, sono tantini. Ne sto ammazzando mezzo. Sto solo prendendo danni. Oh. 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 Ah no, quanti ce n'è qui? No, qua ci seccano raga. Ci seccano. Vai. Passiamo questi. Cerchiamo di non cadere. Vai, 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 vai. Aia. Aia, non cadiamo. Vai che li stiamo ammazzando. Stiamo uscendo dalla folla. Vai, vai, vai. Usciamo da sinistra. A destra ce n'è un sacco, ragazzi. Oh, cazzo qua. Oh, arriva una frotte. Speriamo di farcela. I miei soldati sono saliti quasi tutti ormai. Abbiamo da vita. Aia. Aia. Più che ammazzarli così, non so che fare. Aia, stiamo prendendo tanti danni. Aia. Vai, vai, giovanza. Vai, vai. Dobbiamo fare sec tutti questi, così poi io mi muovo liberamente nel castello. Vai. 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 Guarda qua quante ce n'è di là. Ok, andiamo di qua. Bella. Bella. Di qua ce n'è. Io. Proverei a scendere, ragazzi. Andiamo a scendere. Siamo arrivati con 184 uomini. Loro 300. In questo momento. Sì, no. È vinta, è vinta. Oh, cacchio. Ma ci sono ritrovati qua. Però questi stanno scappando. Noi li ammazziamo. Facciamo expo. Expo con la spada. Vieni qua, Johnny. Nope. No. C'è scappato. Corri, giovanza. Lo pigli, lo pigli. No. Vai, 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 vai. Tutti. Corri. Vai, brava, giovanza. Bella. Bella. Tutti, tutti. Tutti quelli che passano di qua. Vai. Bella. Vai. Vi sforniamo. Niente, ragazzi. Ormai questo gioco è diventato troppo easy per giovanella. Troppo, troppo. Troppo stong. Questo guarda gli uccelli. Questo scappa. Bella. Non so che cosa gli abbia detto. Però era molto arrabbiata Giovanna. La battaglia è terminata. Proprietari di Vostrum. Lo prendiamo sempre noi, ragazzi. Ancora noi. Così possiamo avere quasi 400 uomini al nostro fianco. Ok, ragazzi. Tutte le città le abbiamo prese. Restano soltanto i castelli a questi maledetti. Uno ce lo stanno provando a prendere. Ma parte del nostro esercito sta andando da loro. È come se non fossimo più in guerra con nessuno. Perché rimanendoci soltanto i castelli. Potremmo provarci a prendere noi questo. L'Avenia. Poi ci resta Morenia. E poi veramente gli abbiamo preso... Ah no, è questo. È Sestadheim. Tre castelli. Poi gli abbiamo preso veramente tutto. Ah no, è questo. Quattro, scusate. Sono cieco. Questo glielo prendiamo veloce. Accordi di pace? Ah sì, dai. Va bene. Noi gli prendiamo più i castelli e siamo in pace. Finalmente, ragazzi. Non siamo più in guerra con nessuno. E vedremo se qualcuno oserà attaccarci. Ma ormai Giovanna, credo... Faccia paura a tutti. Se sia in posta... Come si deve. A carradio. Col pugno di ferro. Guai a chi fa guerra. Rega, io per oggi... Mi fermo qua. Abbiamo fatto tanto. Abbiamo estinto l'impero... Non so quale parte era. Comunque, una fazione dell'impero. E direi che ci vediamo nel prossimo episodio. A presto e ciao ciao. E grazie sempre per il supporto. Ciao rega. Ciao. Grazie a tutti.